In che zona del centro? Sì, ma non sa indicarlo. Senta, sacco dove e con chi ha trascorso quella notte di Halloween a Meredith? Dopo a Monsana ha incontrato Raffaele, dopo il giro, con cui è andata a casa di Raffaele. A che ora l'ha incontrato Raffaele? Alle due. Alle due, di notte. Poi è tornata a casa con Raffaele. E sa dove e con chi ha trascorso quella notte del 31 ottobre Meredith? Sì. Lei l'aveva, l'aveva, l'amica inglese può farmi dei nomi? E dove sono andate? Cioè, gliel'ha detto Meredith che sarebbero andate lì. Perché lei le ha chiesto a Meredith di uscire insieme quella notte? Did you ask? I asked her, before, like during the afternoon, I asked her if she had the plan. She said she was going out with her friends atton. And I said oh, dear, she wanted to be there. But it's like she didn't see her. So it's really cool. Senta, lei conoscete i ragazzi spagnoli o ragazze spagnole? Senta, lei quando ha saputo che la notte tra l'uno e il due la Romanelli e la Mezzetti non ci sarebbero state? La Romanelli è Laura e Filomena. E di Laura lo sapeva? La Romanelli è Laura e Filomena ha detto che Laura era a Roma. Allora, lei... Grazie. 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 Grazie.